Nella finale play-off del campionato di eccellenza, la battipagliese ha pareggiato 3-3 contro la Reale Bolitana, conquistando l'accesso alle fasi nazionali. Protagonista per le zebrette, l'attaccante Mallardo, autore di una doppietta. Il servizio. Si disputa a porte chiuse la finale del girone B dei play-off valida per la Serie D tra battipagliese e Reale Bolitana. I primi dieci minuti, le due squadre non esitano a fare la prima azione e si studiano correttamente. Al quattordicesimo, Mallardo controlla la palla con il sinistro e dalla fascia sinistra cerca Novello in aria. Ma Novello non ci crede, spreca un'azione. Al diciassettesimo, reazione della Bolitana. È la sua prima azione e si porta in vantaggio, Constantaniello, che riceve la palla da un cross di Petillo. Colpo di testa che colpisce prima la traversa e poi finisce in rete. Non passa neanche un giro di lancette, che la battipagliese pareggia. Chiarello, dalla lunga distanza, tira e colpisce il palo, ma si fa trovare pronto Mallardo, che con un tuffo di testa la manda in rete. Da qui la partita inizia ad accelerare. Iniziano a sentirsi alcuni di tifosi giù di da battipaglia, che si sono recati fuori allo stadio. Al quarantunesimo, Santaniello, in aria tocca appena la palla di testa e guadagna un calcio d'angolo. Dallo sviluppo del calcio d'angolo, la palla caramba la cipede di Santaniello, che sul filo del fuorgioco allunga il piede e realizza la sua doppietta per la reale Bolitana. E se Santaniello fa sognare la reale Bolitana, da una parte, dall'altra è sempre il solito Mallardo per i bianconeri, che racciuffano il pareggio. Calcio di punzione di Di Maio e tiro di Mallardo, dove Pompeo non arriva. Si va negli spogliatoi. Il secondo tempo inizia con il ritmo veloce. Mallardo su contropiede affronta quattro difensori della ebolitana e Marciano viene ammonito per un gioco scorretto. Un secondo tempo con poche emozioni. Alla mezz'ora si registra un'azione della battipagliese, che con un cross dal centro si fa trovare Chiariello, che sopprende tutti sul filo del fuorgioco. Chiariello si porta in aria e a tu per tu con il portiere spreca una facile conclusione. Quarantesimo è sempre la battipagliese, che con Mallardo tira di diagonale, ma finisce alla sinistra del portiere. Si conclude con il risultato di 2-2 e si va sui tempi supplementari. L'allenatore della reale Bolitana, costretto a dare informazioni dalla tribuna ai suoi uomini, un eventuale pareggio dopo il secondo tempo supplementare potrebbe dare la vittoria della battipagliese. Quinto minuto del primo tempo supplementare. Calcio di punzione di Trezza per la reale Bolitana. Legno in pieno. Continua l'azione. E la ebolitana si procura un calcio di rigore. Sull'abbattuta ancora Trezza, che spazza il portiere e porta a tre le reti della reale Bolitana. Tredicesimo pareggia la battipagliese con un colpo di testa ad anticipare il portiere. E Chiariello, dopo il gol, festeggia con tutta la squadra. Poco dopo finisce il primo tempo supplementare. È subito 3-3. Nel secondo tempo supplementare nulla da registrare, se non che la vittoria della battipagliese... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.